buongiorno in una bella giornata di pioggia di giugno 4 per l'esattezza 2020 2020 la cosa di cui volevo parlare oggi e so che a voi non interessa quello che dico è proprio questo il fatto che a me non interessi quello che dice quello la anche se è improprio definirlo quello la a me non interessa che cosa dice quella la perché perché io ho delle esigenze ed è secondo questa motivazione che contesto la democrazia perché la democrazia è un atto coercitivo e che cosa intendo dire mi spiego meglio ammettiamo che io sia un agricoltore vi faccio degli esempi per farvi capire e per me la cosa importante è che piova quando serve e che possibilmente che piova di notte e che di giorno ci sia il sole per far crescere sani e rigogliosi e rigogliose le le colture che ho piantato per per qualcun altro invece ad esempio uno che vende degli ombrelli preferisce invece che la pioggia ci sia anche di giorno perché la maggior parte delle persone di notte non vanno in giro la maggior parte delle persone di notte dormono è anche giusto dormire di notte perché con l'oscurità c'è una correlazione tra il fatto che si dorma di notte piuttosto che di giorno fa bene dormire dormire di notte fa meno bene dormire di giorno perché la luce solare a meno che tu non si era inchiuso in una stanza buia ma la stanza buia poi diventa per la vista che si presenta un un ostacolo al al cervello di di ragionare perché il nostro ragionamento quando siamo in un prato è completamente diverso da quando siamo in un supermercato e ti dici grazie al cazzo nel prato e ti fai i cazzi tuoi nel supermercato ci vai a comprare io vi stavo facendo l'esempio per indicarvi un luogo un luogo chiuso è un luogo aperto i nostri pensieri sono diversi quindi se noi dobbiamo convivere con gli altri la cosa più sbagliata la cosa più sbagliata che noi che che si possa fare è quella di non ascoltare gli altri ed è proprio ed è proprio dall'ascolto di un altro che ti vengono in mente cose diverse da quello che tu pensi perché una persona abbiente che proviene da una famiglia ricca ben educata e non tutti i ricchi sono dei ladri la maggior parte dei ricchi sono ladri diciamo il 99,9 per cento sono ladri secondo la legge non secondo me perché se qualcuno è capace di monetizzare con una sua idea con una sua idea non con una truffa con un'idea concreta cioè l'idea di qualcuno che crea qualcosa e poi per mezzo della vendita di quello che ha creato monetizza quello è giusto quello che vi faccio un esempio un esempio banale di un professionista senza prendere di mira una categoria ci sono professionisti che chiedono una parcella ci sono altri professionisti che per fare lo stesso lavoro chiedono dieci volte tanto e quello è il mercato è proprio in concomitanza di questi fatti che la nostra attenzione per avere una visione più realistica perché noi possiamo essere come stavo dicendo prima figli di banchieri il banchiere l'unica cosa che ha in testa come per il musicista il musicista l'unica cosa che ha in testa è quella di fare una buona musica per far sì che la gente la possa ascoltare perché la soddisfazione vera del musicista è vedere la gente che canta o balla quello che lui ha prodotto con la sua mente con la sua testa la soddisfazione invece che ha il banchiere è quello che riesce a sfilare dalle tasche mi dispiace banchieri ma i banchieri quelli che ci sono oggi fanno solo ed esclusivamente questo cioè sfilano dalle tasche dei cittadini dei soldi perché la banca dove guadagna? la banca guadagna prestandoti dei soldi o la banca guadagna dandoti dei servizi vi è mai capitato di capire che le condizioni contrattuali e quella è una cosa sbagliata perché quando si firma un contratto il contratto non può variare nel tempo per due motivazioni la prima è che quando io stipulo un contratto di deposito con un ente la banca è un ente anche se privato devo essere certo che il mio rapporto con questo ente oggi è diventata entità più che ente sia stabile quindi non ci può essere un contratto dove le regole vengono cambiate ma queste regole sono state cambiate in accordo con i politici che le banche sono i fautori dei personaggi politici perché le banche finanziano tramite le fondazioni che per legge non hanno tutti gli obblighi delle società o delle associazioni le fondazioni si prevede che qualcuno possa fare delle offerte e voglia rimanere voglia rimanere offerte in denaro e voglia rimanere in incognita anzi in incognito perché l'incognita è l'algebra beh ogni tanto gli sbagli li faccio apposta perché se voi poi state attenti a quello che dico dovete capire la differenza tra incognito quindi in segreto e incognita l'incognita è l'incognita è riferito all'algebra adesso non vi sto a spiegare tutta l'algebra quindi il banchiere e l'agricoltore o chiunque altro lavore il panettiere il fruttivendolo hanno un modo diverso di concepire la realtà il banchiere ti vuole sfilare i soldi e come dicevo prima col cambiamento delle condizioni contrattuali vi faccio un esempio se una banca dovesse avere un milione di in Italia sono 60 milioni quindi è è quasi è quasi certo che una banca abbia un milione di di utenti di di risparmiatori di correntisti se cambia le condizioni di un milione di correntisti e dice che dal primo gennaio 2021 il costo del conto corrente che prima era gratuito diventerà a pagamento un euro al mese però 12 euro all'anno 12 euro all'anno moltiplicato un milione sono voi che siete più bravi di me in matematica e questo e questo che cos'è la differenza schifosa che c'è tra questi ladri questi cioè se il servizio è lo stesso dell'anno scorso perché adesso tu mi chiedi 12 euro e l'anno scorso nulla perché prima hai fatto la politica di accaparrarti il cliente quando il cliente è lì sì ma è un euro al mese un euro al mese moltiplicato un milione è un milione di euro per 12 mesi sono 12 milioni di euro che la banca ha incassato senza fare nulla tu dici vabbè ma che correlazione c'è tra no no io stavo solamente descrivendo il modus operandi di alcune persone dei banchieri allora perché scusate visto che noi siamo uno stato lo stato è formato da che cosa dai cittadini all'articolo 1 il popolo è sovrano come mai l'Italia non ha più una banca pubblica perché quei soldi quei 12 milioni non potevano entrare nelle tasche dei cittadini e magari con quei 12 milioni si potevano aprire degli asili nido tanto per farvelo sapere per farvelo capire perché è importante che voi ascoltiate anche me io magari quello che dico io può essere di poca rilevanza per quello che è di vostro interesse e chiudo uccidendo la democrazia la democrazia come ho già detto altre volte prevede il 51% e se io ragiono diversamente perché sono un agricoltore ragiono diversamente dal banchiere che fa le leggi perché ha più soldi di me perché un agricoltore non arriverà mai ad avere un milione di euro aumentando il contratto con i correntisti perché l'agricoltore quando vende quando vende a pubblico deve e sul mercato deve fare concorrenza agli altri la democrazia è la politica i politici cioè quelli che noi vediamo in televisione Di Maio Salvino Meloni Sgarbi Conte Mario Monti Dini Fini Gini Pini tutta questa gente qua non fanno nient'altro che obbligare l'agricoltore ad accettare le stesse regole che sono state fatte per i banchieri e questa è sbagliata è per questo che io dico che la classe politica deve essere abolita ci devono essere delle leggi che dicono si può fare non si può fare il resto chi se lo guadagna se lo tiene in tasca e paga solamente un'imposta sul valore aggiunto eliminando il denaro e mantenendo un tipo di contabilità elettronica quindi denaro elettronico con il con il denaro contante puoi pagare in nero con la carta i pagamenti sono tracciati e tu non puoi più pagare in nero nessuno quindi bisogna togliere il nero e la fattura o l'emerso come lo chiamano rimane l'imposta sul valore aggiunto che viene applicato su tutte le transazioni in quel modo lì nessuno può evadere le tasse e non c'è bisogno nessuna regola nessuna legge fatta da qualche politico per i banchieri oltretutto i politici sono anche surclassati adesso dai tecnici gli esperti quindi ci sono i politici e poi in più ci sono i tecnici gli esperti invece ci devono solamente essere delle regole delle leggi è per questo che è importante capire e ascoltare anche quello che dicono gli altri perché se un banchiere ascolta quello che ha da dire l'agricoltore e l'agricoltore gli spiega qual è la fatica che fa forse il banchiere per come è fatto il prossimo anno aumenterà di 2 euro al mese ok Grazie.